La grande capacità produttiva è garantita da un reparto di macchine e utensili di vario genere, nel quale spiccano una ventina di macchine a controllo numerico, tra centri di lavoro, torni, rettifiche, elettroerosione a filo. Quasi tutte le macchine a CNC lavorano 15 ore giornaliere, suddivise in due torni lavorativi. Numerose altre macchine e utensili tradizionali e il reparto di montaggio meccanico completano la parte produttiva, portando la potenzialità di ore lavorative e dirette a oltre 60.000 annue.